Sei stanco di dover sempre alzare il volume per sentire la televisione? Scusa, puoi abbassare la televisione! Sei stanco di chiedere sempre alle persone di ripetere che cosa hanno detto? Non riesco a sentirti! Ora puoi sentire anche un ago che cade nella stanza accanto, il ticchettio di un orologio per la prima volta dopo anni, o perfino il più lieve bisbiglio. Adesso puoi sentire anche un bisbiglio dalla stanza accanto! Ora potrai finalmente sentire qualunque cosa! Ti presentiamo il nuovo, incredibile EarZoom Pro, l'ultima innovazione nel campo degli amplificatori acustici portatili. Ti permette di amplificare qualunque suono in pochi secondi. Basta indossare i comodi auricolari, attaccarli all'apparecchio tascabile EarZoom e infine accendere l'apparecchio. Ogni EarZoom Pro è totalmente autonomo, portatile e funziona con delle normali batterie già incluse nell'apparecchio. Puoi portarlo con te dove vuoi, sia al chiuso che all'aperto. Puoi regolare il volume di EarZoom Pro. In questo modo, puoi impostarlo in modo tale da sentire quello che desideri, forte e chiaro. Un design ultrasottile che lo fa sembrare una radiolina. Questo è EarZoom Pro, completo di batterie e comodi auricolari. Chiama per informazioni sull'apparecchio e per conoscere come ricevere un secondo set completo di EarZoom Pro in offerta speciale. Chiama per informazioni il numero che vedi in sovrimpressione. Disponibile in sole 24 ore.